FAN DESTRICT FAN DESTRICT FAN DESTRICT YEAH 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 FAN DESTRICT FAN DESTRICT FAN DESTRICT Bella raga, ciao ti raccomendori veneziano gara 2 dopo la super baffa di gara 1 che erano più 12 e più 6 negli ultimi minuti siamo riusciti a perdere, non so neanche come anzi lo so, ma... non vogliono andare oltre perchè sennò veramente bestemmio in polacco ho perso 5 palle ho perso in 2 minuti ormai persa 1 in 3 quattro dai raga questa andiamo assolutamente a vincere per portare la serie a Miami con 1 a 1 e soprattutto eeeh prendere fattore campo dai comandone ce la puoi fare dai ho vinto a Cleveland due volte possiamo vincere a Los Angeles bologna, già partono bene questi stronzi chi è questo vai Bosch e Bosch la appoggia buono buono dai dai Fiori non possiamo perdere con queste merdacce nooo eh ragazzi l'inizio non è positivo poi si stanno mettendo tutto dai eh ma non è mica sempre Natale però eh non è sempre Natale buono 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 grandissimo superassista buono dai anche noi stiamo giocando bene finora nessun errore grandi ragazzi dai che l'hanno che hanno fatto quel gioco da tre punti con le due triple fastidiose e poi attenzione questo qua è liberi che è una merda obese ecco reddick ahhh non mi piace non possiamo andare sul 2 a 0 assolutamente siamo sul 2 a 0 sarà durissimo a recuperare quindi non possiamo sbagliare più niente in casa è una finale libertarla dai Bosch la premete ditta yes meno male che ci siamo Bosch veneziano anche Bosch girando alla grande molto meglio i playoff rispetto alla regola del season eh qua ho dormito io qua purtroppo ho dormito io i clipper sanno il 100% dal campo Fiori non lo sa non so come sia possibile ma è così non possono durare però dai noi cerchiamo di tamponare in questo primo quarto dai Bosch no questo non è facile purtroppo attacco non meraviglioso attenzione Paul per reddick da solo Pearson non possiamo lasciarli così oh finalmente sbagliano anche loro grandissimi quanti assist che faccio però mamma quanti assist 29.17 assist persa contro Clippers con statistiche così è inaccettabile perdere però eh attenzione Griffin 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 classico movimento di Blake sono due punti sicuri invece no dai Fiori ecco come si butta mamma mia che brutto mamma mia che brutto 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 ragazzi ecco ecco dio santo ma questi mettono qualsiasi cosa che primo quarto di merda primo quarto veramente pesante Wade altro errore ragazzi brutte notizie siamo in vantaggio è vero ma sono già a cinque falli Paul mi ha veramente massacrato eh sì ma è da cinque falli quindi adesso non so che fare onestamente sono terrorizzato vediamo come si sa fare il triplone niente da fare non posso più marcare nessuno praticamente mamma mia che palle in questa situazione manca ancora tutto un quarto dio santo dai veneziano tira fuori che qua devi dimostrare di essere un fenomeno mamma mia qua come ho fatto un due punti degni del miglior possiamo solo dar fastidio ma se mi vicino a Paul mi fa sfondamento robe tre falli ho fatto così eh non posso saltare più non posso più far niente Dio santo non ho mai pensato di trovarmi in questa situazione non ho mai pensato di trovarmi in questa situazione ecco questo è un po' duro da mettere cosa ha preso il kume eh qualcuno ha fatto un gran imbalzo offensivo bravo vecchio bravo kume e la mette anche dentro perfetto non è che stiamo giocando un buon basket buono più nove più nove che prego sbagliala mamma mia ho proprio so mamma che paura che ho preso mamma mia mi son cagato addosso dai ma togli mi sto fine del primo del terzo quarto dai buono più undici mamma come stiamo eh come come la partita precedente dopo però abbiamo buttato via tutto ma ma Paul è una bestia una roba micidiale uh per poco le la fregavo però eh Paul vuole assolutamente darmi il sesto fallo sa che senza di me perde molto Miami in attacco eh uff Dio sa anche i pick and kume sono rischiosi bravo qua eh però ragazzi qualcuno ha fatto un'azione strepitosa con Dragic brah la Napola ha già più di 30 punti eh poi non è una sbaglia una d'altronde eh adesso si prima se già Marco non bene adesso che sono ridotto con tutti sti falli eh ancora peggio bravo mamma mia cosa ha fatto questi sono due punti pesanti come un fil di fa sbindere ragazzi e yes beh che andiamo al quarto quarto con un buon vantaggio ok bravi ragazzi molto bene avevamo un'occasione no d'oro di più no vale bene ragazzi ha fatto un miracolo sempre in campo ancora cinque falli benissimo 120-104 perché se ci mangiamo questa me ne vado eh cioè mi ritiro dalla finale perché non possiamo eh devo difendere così sto difendendo praticamente dai fioi stiamo tranquilli questo deve essere l'1-1 che era fondamentale dell'obiettivo almeno vincerne una nelle prime due a Los Angeles devo dire che anche la mia squadra ha fatto una partita ragazzi devastante Wade, Bosch, Deng tutti attenzione come prendo un triplone per chiuderla ah furto errore peccato attenzione Pierce adesso comincia Clippers eh no eccoli dai Clippers adesso ho tre minuti ma anche adesso cominciano a tirare solo 3-3 impressionante però eh impressionante devo zittirli subito ste merde e cosa vuole fare il Cuma eh però non posso sbagliare così mi nervosisco gli ultimi 3 minuti non c'è niente da fare Griffin mamma che stoppata però arriva lui la mette vedrai no e invece no eh vaffanculo da solo solo rete bravo Cuma fantastici Cuma fantastici Piercey non è da 3 spero di no e non è da 3 meno male vediamo andiamo a giocare col cronometro per portare a casa questa vittoria fondamentale allo Stable Center di Los Angeles bravo questo è il tuo uno schiacciatore facile facile oh yes e li abbiamo massacrati e asfaltati asfaltati stavolta e che cazzo 29 e 15 mamma mia che medico però Griffin Griffin tipica giocata di Griffin vabbè da 2 chi se ne frega non è che non è finita Cuma sta attento non si sa mai eh però se mi regalano i contropiedi ciao ciao Beppe ciao c'era 31 punti 15 asti signori 9 su 21 dal campo questo è il Cuma signore eh no però loro non mollano non mollano niente sti mignottoni eh però Griffin la sbaglia eh non è sempre non è sempre Natale facciamo scorrere il tempo e andiamo a vincere andiamo a vincere uno a uno e si va a Miami e a Miami non dobbiamo sbagliare nessuna delle due dai eh però per arrivare in balzo arrivano due punti che mi danno la vittoria yes la papà la papà 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 sbolo però Paul le metti tutte diciotto nel madonna quanti punti ha fatto Paul è questa dimostrazione che in difesa bisogna migliorare tanto però se ne attacco al gioco così compenso tranquillamente Giochiamo divertiamoci 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 Wade è ancora in balzo e si va a vincere con la palla in mano signori con la palla in mano ecco ho penato è fatta io sono un figo sono un figo no vince la palla in mano sì ce l'ho ancora lo posso dire con la palla in mano non andiamo a Miami solo 1 a 1 quello che volevo si è avverato yes alla grande eh vada come protagonista eh sì oh Doris mi fa anche l'intervista a putt'anore abbiamo fatto la partita insieme ecco vediamo se mi danno la MVP spero proprio di sì io voglio vincere finale più MVP delle finali voglio vincere tutto vediamo yes migliori in campo ragazzi raga un saluto dal commentone veneziano 31 punti quindi si assiste non so se mi spiega ciao